Allora, se io fossi uno strumento musicale, probabilmente sarei un pianoforte perché ha un'estensione pazzesca. Quando ascolto la musica, non è che ascolto la musica così, la chiudo gli occhi e visualizzo dove andrà, immagino. Milanese Doc racconta che a nove anni attraversava la strada senza guardare. Se non sentiva rumori, andava, viveva di udito. Questo è un lavoro che non si può consigliare, è un destino, è una passione, è come consigliare a un giovane di fare il pittore.